Buongiorno a tutte le persone che guardano e guarderanno questa intervista. Siamo qui proprio per cercare di unire le teste degli autori, che quindi sono i diretti responsabili della creazione dei nuovi formati televisivi, radio televisivi in questo senso, e quindi attraverso i workshop e attraverso poi la premiazione c'è la possibilità di uno scambio, di uno scambio di idee, ideona. A proposito di radio, te parti proprio da lì, quali sono le differenze tra la radio e la televisione? Le differenze sono tantissime, iniziamo dall'immagine che è quella principale, però la radio ti permette una maggiore libertà e soprattutto libertà di immaginazione, per cui mentre guardando la televisione diventi spettatore passivo, ascoltando la radio fai funzionare la testa per visualizzare quello che ti viene raccontato e la stessa musica ti offre delle emozioni che ti coinvolgono di più. Televisione che va alla ricerca di nuove ispirazioni, dove deve andare a pescare questa televisione? Che cosa deve offrire a questo spettatore moderno? La televisione deve guardare per forza quello che sta accadendo sul web, per cui è lì che bisogna attingere tutto. Inevitabilmente si andrà verso quell'interazione lì e quindi a quel punto lo spettatore avrà un peso specifico completamente diverso e tutto questo rivoluzionerà e lo sta già facendo forse in modo sia di fare televisione che di pensare ai nuovi format televisivi. Bisogna pensare alla crisi però, cioè con tanti soldi si possono fare un sacco di cose, i pochi soldi aguzzano l'ingegno e in questo modo allora si riescono a trovare delle idee con dei contenuti secondo me ancora più interessanti. esperienze televisive, esperienze radio, anche un'apparizione sul grande schermo. È chiaro che un sogno, il cinema rimane tra i tre mondi, quello radiofonico, televisivo e appunto cinematografico rimane il più magico. Quindi, chi ne so, magari in un futuro mi piacerebbe poter lavorare dietro in questo senso e quindi attraverso le tecnologie nuove che offrono l'opportunità di creare dei prodotti anche con un budget ristretto, allora magari solo per il desiderio di farlo vedere a degli amici magari mi potrei cimentare in qualità di regista nel cercare di creare un film, ma non certo da distribuire al cinema. Daniele, non posso che ringraziarti tantissimo. Quindi un ultimo saluto per tutti gli spettatori di Campus Wave TV. Beh, un saluto a tutte le persone che hanno avuto la pazienza di vedere anche questo intervento. È un grandissimo complimento invece a chi lavora dietro perché secondo me questo è proprio il presente proiettato verso il futuro. Cioè, nel senso, è proprio il modo migliore per investire il proprio tempo nei nuovi media. per cui complimenti a tutti voi ragazzi, veramente ve lo meritate da parte mia perché è la verità, è così. Cioè, veramente, veramente. Per cui, ma figurati, grazie a voi. Grazie.